Inaugurazione anno giudiziario 2016, segretario per la grande Napoli Lorenzo Mineo. Allora no, siamo qui come radicali, oramai è una consuetudine quasi un ruotale, si potrà dire, quello di venire in questa occasione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario fuori il tribunale per questo sit-in, però diciamo è un rituale che ha senso tanto più perché il problema giustizia si ripresenta, si ripresenta con le condanne per trattamenti inumani e degradanti che subisce l'Italia e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si ripresenta rispetto alla non ragionevole durata dei processi e al danno quindi dell'erario che consiste nel mancato risarcimento per i tempi della giustizia. Quindi diciamo finché non ci sarà una riforma e noi siamo qui a chiedere questo, provvedimenti di clemenza che possono essere una premessa a questo o anche depenalizzazioni, ma innanzitutto una riforma della giustizia sulle tradizionali posizioni radicali, quindi separazione delle cariche, quindi fine della carcerazione preventiva, quindi ancora qui per rivendicare di fronte a una giustizia che è ancora immobile. Grazie per la visione!